salve a tutti e benvenuti in un altro episodio di quanto è pippa alberto un saluto da kyle il nostro video domani e da me quest'oggi prendiamo in considerazione un mazzo che ha scalato il mythic i primi 10 eventi del mythic in ladder mythic giocano o hanno giocato o stanno giocando o giocheranno questo mazzo con questa combinazione sto parlando del madame the range gruel spiegazione è un mazzo un po champagne come mi piace dire a me perché perché gioca appunto ma è da una carta non giocata tantissimo secondo me estremamente sottovalutata fortunatamente con la nuova espansione con tutte quante quelle altre carte con tutti quanti tipo magma opus o cose così che ci permettono di creare dei risultati ma da potrebbe trovare spesso e volentieri la sua collocazione in uno di questi mazzi che cosa fa magda a parte essere un 2 1 a costo 2 e dare più 1 più 0 a tutti quanti i nostri dwarf i nostri nani ha un'abilità ogni qual volta un nano viene tappato quindi anche lei perché lei è un nano berserker crea poi creare un trisor token sacrificando cinque trisor token noi possiamo cercare nel nostro mazzo un artefatto un artefatto scusate un artifact un artefatto o una carta drago e metterla direttamente in gioco sotto il nostro controllo anche se anche se l'idea di dover arrivare a cinque trisor quindi ci tapparla cinque volte per usare questa abilità pare un'enormità in realtà ci sono molti modi per tapparla anche senza attaccare ed è qui che entra in gioco la jaspira sentinel jaspira sentinel ci permette di accelerare il mazzo in maniera impressionante perché supponendo di avere entrambe nello stesso momento in gioco ipoteticamente parlando al secondo turno secondo turno noi abbiamo appena calato magda noi possiamo tappare jaspira sentinel attingere un mana di qualsiasi colore tappando magda che tappandosi genera un trisor token quindi al secondo turno noi abbiamo raddoppiato il value delle nostre terre e questa è una cosa estremamente utile estremamente importante questo value come lo spendiamo noi lo spendiamo come più ci piace ci piace per esempio potremmo metterci un floridron e accelerare ulteriormente la nostra generazione di mana potremmo per esempio fare due danni col bon crash giant perché questo mazzo gioca anche lui la adventure engine quindi abbiamo cerri scorti rim ron nike bon crash giant appunto e l'allstruck beast abbiamo detto che bisogna sacrificare 5 trisor token evocare un drago ecco qui il nostro drago che cosa fa se hai trisor token anche lui ed ecco che qui comincia proprio il value in la generazione di mana e l'accelerazione di questo mazzo se riusciamo a pescare le tappe giuste ovviamente se il culo ci assiste se il culo ci assiste appunto riusciamo a generare in pochissimi turni una quantità di mana impressionante il golden dragon per esempio ci danni 1 a random può entrare tranquillamente con questa in questo mazzo al terzo turno perché 3 mana magda token jaspira sentinel boh 5 mana ecco lì ecco sceso il ghost and dragon facile come bere un bicchier d'acqua appunto quindi e poi da lì ma non solo noi non possiamo non è detto che il topino per forza giocare il ghost and dragon ma che il ghost and dragon non entra e entra esika chariot esika chariot anche lui ha un'abilità interessante che non è tanto il cagarsi i due gattini per trainarlo ma quanto quello che dice nella parte sottostante ovvero sia whenever esika chariot a pack create a token that's a copy of target token you control e signori i 3 sul token che cosa sono esika chariot ci andiamo con noi con esika chariot ci possiamo copiare i token e generare altro mana quindi continuare a fare cose su cose su cose su cose su cose un ovviamente ultima non per importanza amber clave perché appunto generando tanto mana all'inizio se noi abbiamo amber clave in mano terzo riparisco sempre l'ipotetico caso della mano perfetta con 3 terre 3 terre jaspira sentinel magda ghost and dragon amber clave signori al terzo turno gg quindi cerchiamo un attimo di mettere le cose in chiaro qua sono gazzi se sto mazzo se si riesce ad incastrare bene il mazzo vince vince in modo molto molto facile io ho visto vincere veramente partita al terzo al terzo turno come se niente fosse e purtroppo quello che prendeva gli scaffi ero io da un'altra parte quindi ok questa era la spoiler questo era il mazzo non ci resta che andare a provarlo a titolo puramente informativo io questo mazzo l'ho giocato solo ed esclusivamente due volte una volta col bot per vedere se avevo messo le terre giuste la seconda volta in normal e abbiamo vinto incredibile ma vero comunque essio oh no 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 ecco ci manca la sentinel qui e ci avevamo praticamente una mano stupenda questa mano è molto molto carina ma ci manca il la generazione di risorse da parte della da parte di matita quindi la tengo perché la tengo perché veramente non voglio scartare una mano del genere e mi gioco e mi gioco il pathway un'altra cosa importante è ricordare questo mazzo con 4-5 terre in gioco sta a posto oh interessante rimrock allora magda a me ne serve io non voglio farmela sparare però è altresì vero che non ha no mettiamo magda no no cambia d'idea metto magda sparaci sopra perché c'ho in keeper e rimrock lì con un terzo mana in keeper e rimrock è una pescata quindi posso barattare questo con lo sparo di questo buon crusher appunto prendendomi un danno posso facilmente ah eccola spettanturno no eh maledetta bastarda allora ce la facciamo allora no mettiamo ah mettiamo il jaspira sentinel e basta e prima che passa spacchiamo feble passage e andiamo a pescarci un'altra terra qua riam frostbite ne serve sto gran figlio di pulcinella ok mi piace va bene così noi ovviamente ci prenderemo questo danno non me ne può fregare adde meno ok ci prendiamo un mana rosso perché noi necessitiamo solo del doppio rosso che ci serve sia per il drago che per end il resto non conta my turn buono rimrock allora edgewall in keeper e e rimrock ottimo il bonecrusher no attack and turn ora potrei barattare jaspira con bonecrusher giant e tappandola generando urmana o pappandola con rimrock che non sarebbe male sarebbe un bel trade no past blogger stop after blogger eh vabbè ormai tanto non è che ci serve in attacco anche se fuoco perché tanto il drago non è che ce l'abbiamo quindi è stato più veloci di noi complimenti eh mono rosso on the play 4 terre ecco il risultato ed è vabbè vabbè ma questa è sfiga cioè per dio cioè è allucinante e quando c'hai magda non ti entra la sentinel ti entra la sentinel muore perché ti blocca e perché ti entra magda cioè maledetta problema è uno solo perché se non riesce a rigenerare velocemente mana con questo mazzo muori allora zirda ma un paio di giorni che porca vacca zirda fox bianco nera proviamoci secondo me non c'ha gli spari non gioca rosso gioca bianco boros winota no sbagliato completamente non ci ho capito un cazzo ah se noi adesso per esempio riusciamo a attaccare con magda generiamo un bel token che non è male anche se mi sa tra poco ci ha fatto eliminate qua sopra e riusciamo a giocarci e si cacereot e si cacereot tanta roba eh io spero che si metta a paura del drago e mi fa giocare e si cacereot in keeper ah tu si matto guaglio tu si matto tu si matto guaglio anche perchè ricordiamo che conta tappare magda anche come crew quando tu la tappi per il crew lei lo fa il coso il treasure token e nel prossimo turno vai dove va il drago stica va benissimo mi domando se adesso però mi conviene di più fargli danni o cagarmi i token interessante allora lui allora è in santo attacco c'è poco comana rampiamo a posto a posto è andata ok e questa mano non ci piace toccherà mulligarla prima vediamo che cosa fa il nostro opponent comunque fondamentalmente è inutile cioè non serve un genio peccati che non ci sta un mano verde abbiamo tre cappe verdi e una rossa voglio dire ecco questa è già una mano decente che togliamo però togliamo embercleave o drago io sono molto indeciso al riguardo ma penso che toglierò embercleave perché sono solo tre creature e non è detto e quando arrivo al terzo quarto quinto turno per il goldspan dragon dubito che embercleave fa la differenza senza contare che la posso sempre ripescare mono white this is mono white they play mono white o crusher giant sarà perfetta come k contro questo mazzo mondes enclave no block allora ragioniamo un secondo se io mi calo giaspira sentinel poi posso attingere un'altra romana verde to submit via ole e selfless se lo siamo levato dal cazzo adesso uno due tre quattro cinque mi servono un paio di mi servono un paio di creature teoricamente il gigante potrebbe fare il suo wow ma perché allora dobbiamo essere intelligenti qua quindi è impossibile se io mi gioco chariot metto in gioco due peline che mi possono generare due mana luna sì e inoltre lui non può attaccare perché questo è 4-4 eh ta rischi eh sì se c'è un altro luminar che si dai rischi sì fai bene ma rischierei pure io ah due tre e non attacchi lo fa ah ecco ole eh sì lo faccio a sto punto mana rosso allora se io mi gioco il drago faccio un treasure token gli faccio 4 danni a lui e c'ho il mana per giocarmi in keeper è gigante se non sbaglio sì attacchiamo col drago treasure token sono due mana sì però non posso sti cazzi che non posso bloccar va bene non mi importa a sto turno prendi danni e il turno dopo faccio il botto nel senso buono speriamo perché perché mi può fare allora due tre sono sei danni sette otto metti all of the sky clave dodici ma non ce l'ha perfetto sono otto danni sì e deve per forza pompare lo speaker perché c'ha vigilance e lifelink lo blocca buono non ce l'ha E' intorno Allora Teoricamente io ce l'ho Se voglio trasformarlo Va bene Sull'urrus Ah no Sì uno sull'urrus e uno sullo speaker Ne servirebbe pescare Emberclade, un avventure Qualcosa E il chariot pure Lo vedo un po' E non attacca Ma c'ha i vigilance C'è un motivo per cui ho fatto tre Eccolo il motivo Emberclade Wow Boom C'è un motivo C'è un motivo Scusate Scusate se non ho parlato Nell'immediato Ma come ho visto Magda Cioè praticamente il cervello si è mosso da solo Scusatemi se non ho commentato mentre lo facevo Ma è stata una cosa talmente immediata Talmente Che proprio Ah sì Che bello è riuscito E l'ho fatto senza neanche No Senza neanche pensarci Diciamoci la verità Ho fatto praticamente quasi senza pensare E Allora Doppia Magda Zero mana Ver Cioè zero mana per il modo di D Potrei provarci Perché più che altro per Dico la verità Io questa mano non la giocherei Però In virtù del content creation La faccio La gioco Ma è È una mano secondo me Dannosa È una mano secondo me Molto dannosa Ci provo però Allora Gaspira Sentinel Quindi il turno dopo Ci abbiamo Gaspira Sentinel Magda Ok Terra di turno Mana verde Che vogliamo fare Vogliamo rispondere al fuoco Ma no Sti cazzi Ah facciamo così Ciupa Fa un culo Pansone Facciamo così Vediamo se Vediamo com'è Ti sfido a risparare sopra Magda Ovviamente Vabbè Va bene No attack And turn A noi quando ci serve In 2-2 Quando magari Lui mette una creatura O ci vuole attaccare Va bene La finirai tanto No Va bene Sisi Sisi 3 danni Eh sì C'è C'è Liot Eeeh Tu Entarno Va bene Va bene Vabbè Va bene Va bene Avevo detto 6 mana Sono abbastanza Ed è così Lui sta cercando Lui c'ha un sacco di rimozioni Va bene C'ha un sacco di spari Ah milla Madonna però troppe terre Cosa mi da più fastidio? Mi da più fastidio milla O il bonecrash giant Calcolando che mi potrebbe entrare 4-4 Io voglio uccidere bonecrash giant Nella me rompe il cazzo relativamente Nooo Io spero che feili Ho capito che mazzo è Troppo tardi Ecco lo sapevo Porca troia C'è di buono che gli spacco tutto Quando attacco Va bene C'è di buono Quello che l'ucca more Ops Ah c'ha Ah c'ha pure vigilance Sto figlio di puttana E io ho pescato un'ennesima terra Madonna mia però Io ho pescato tu Magda Ma pure tu Doppia Sky Glaive No Questa non la posso vincere Perché l'ucca comunque sta a meno Sta a tre Se io Questo mi attacca Ogni turno si rigioca l'oro Old command No È inutile Non c'ho modo per togliere Non c'ho modo per togliere Il drago 5-5 Ve odio Peccato che non è leggendaria Uno Yorion deck Potrei avere la mia partita Spiego Me la gioco Anche se ho due terre Perché comunque Confido Ecco appunto Che mi entri la terra Staffata Perché Tutte le volte Mi sono giocato La shot Mi sono fatto I danni Non l'ho giocata Taffata Poi ho pianto Che non c'ho Lo sparo lungo E questa È una cosa Che a me Non piace fare Cioè piangere Specialmente Se mi fanno piangere L'altri Me la gioco La pedina Sì perché È più umana Dopo Sì Che cazzo è questa Arquay combat Entra il battlefield Ah Advo a mano Manico Ecco Avevate mai visto Un crash in diretta Quello si stava giocando Cultivate Speriamo che non sia successo L'irreparabile Ricolleghiamoci alla partita Speriamo che non abbia Non si sia inventato Il cultivate Con mille danni Che cazzo è successo qua Ho perso due turni Cioè E allora Famo a capire Se lui ha fatto Cultivate Il turno Io come ho fatto A perdere due turni Mistero Cioè In 20 secondi Sono stato Out 20 secondi Sono riuscito A perdere due turni Sta cosa È È schifosa Proprio La cosa È a dir Poco Schifosa Pensare Che nella vita Reale Se fosse successo Era semplicemente Me ne ero semplicemente Andato a bagno Quelli Uno Due Tre Quattro Cinque Sei E Dispari Ma sei Scemo Vabbè Ma non è Sembra Un Sultai Deck Il Ramp È Quello Ma È Diverso È Diverso Tanto Love Malady Invece Gioca Emergent Va bene Allora Vorinklex Non è un problema Teoricamente Probabilmente Metterà a mezzo Shadow Verdict Shadow Verdict A noi Ci piace Se esce Valky Non abbiamo niente Nel cimitero E lui Ci ha Ducavolate Potrebbe essere Fastidioso Professor Onyx Io direi Di Di Non fargli Pescare Valky Ha pure Sbagliato La sequenza Ecco Questo È il problema Però Abbiamo Shutter School Smashing Sta 6 E noi Abbiamo Un Ghost And Dragon Noi abbiamo Ghost And Dragon A posto Vabbè Ma saccia Di mozione Ah Counter Vabbè Ma Quando il gioco Decide Che tu devi Perdere Perdi Cioè Ti disconnetti Mi sono Disconnesso Mi ha Fatto Perdere Un turno In maniera Inutile Perché Passato Veramente Trenta Secondi Non di Più Improvvisamente Cioè Mi sono scapparsi Tutti Quanti E c'ho E c'ho Pure Un Counter Ancora Qua C'ho Ancora Un Coso Quindi Quando il gioco Dice proprio Che non devi Vincere C'è poco Da fare Non vinci C'è poco Adesso Sta A meno Sette Ma io Sta Cazzo De E' una missione Cazzo Eh ma me Non ha mission Bocchino Anche perché Non può fare Meno Tre Se sta Sette Puttana Bisogna vedere Se lui Ha 50.000 Rimozioni Perché Ha pescato Un miatto De carte Ma La partita Sarebbe Andata In modo Diverso Se avessi Potuto Giocare Un paio Di turni Miei Senza Saltarli Maledetto Bastardo Gioco E ancora Non si sono Inventati Sta cosa Ancora Ancora Non l'hanno Sistemata Sta cosa Perché Sta cosa È successa Anche All'ultimo All'ultimo Campionato De Trips De Cosola De Caldei Che l'israeliano È caduto E l'altra Partita L'hanno Ripatta Non è così Che funziona Perché Io Perdo Penti Di rank Così Ma Lasciamo Per Da Non Ce ne Frega Un Cazzo Quello È un Altro Discorso Però Ah ma Comunque Concedo Mi sono Rotto Il Cazzo Non è Non è È una Partita Completamente Questa È una Partita Completamente Falsata Falsata Dalla Falsata Non da Me Falsata Purtroppo Da Da Un sistema Che ancora Fa cacare Considerazioni Finali Beh Direi Che Io Comunque Amo Tantissimo La Combinazione Rosso Verde Perché Da Una Parte Ci Sono I Danni E Dall'altra Parte C'è Oh Come Scatto Guarda Roboto Dicevo A me Piace Particolarmente Infatti Il Gruul È Il È Il Mazzo Che Mi Assoluta Certezza Che Se Giocassi Questo Deck Di Più Tirerebbe Fuori Del Potenziale Inespresso È È Un Mazzo Veramente Impressionante Rampato Accelera Con una Velocità Impressionante Vamo Boom Ho Visto Veramente Delle Combinazioni Sulla Carta Avevo Visto Delle Combinazioni Non Male Ma Andandolo A giocare È Stato Complimenti Veramente A chi L'ha Inventato A chi Ha Inventato Questa Combinazione Veramente Devo Devo Fare Il mio Applauso Perché Non 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 Si può Dire Nulla Questo Mazzo Funziona Questa Combinazione Funziona Questo Mazzo È Uno Spettacolo A me Piace Tantissimo Mi Piace Veramente Tanto Detto Questo Per oggi È Tutto Un saluto Da Kyle Il nostro Bird of Mana Ciao Kyle Un saluto Da me Alla Prossima Succhiata